allora buonasera buonasera a tutti e grazie a tutti i presenti per essere qui e gridare un po difficile gridare con la mia voce io vi ringrazio per la nutrita partecipazione siamo qui per presentare la trentunesima edizione della pizzo munno cup che quest'anno si veste anche di colori molto particolari come scopriremo nel corso proprio di questa conferenza stampa saluto e vi presento chi è con me al tavolo in ordine dalla alla mia sinistra luigi olivieri segretario della sezione di manfredonia della lega navale italiana e presidente del comitato di regata antonia faccio russo consigliera comunale e presidente della commissione welfare il presidente della sezione di manfredonia della lega navale il dottor francesco brunetti antonella laureola assessore al bilancio e roberto centonza delegato allo sport del comitato di manfredonia della sezione di manfredonia della lega navale italiana passo subito la parola luigi che ci presenta un po la regata e poi passiamo la parola anche agli ospiti che abbiamo qui con noi sì grazie a tutti come diceva la collega io sarò presidente del comitato di regata quindi rappresento in questo momento la fiv ottava zona e e quindi e quindi avremo poi modo di parlare degli aspetti più tecnici riguardanti la manifestazione sportiva di venerdì e sabato della prossima settimana passerei la parola al presidente in questo momento della lega navale di manfredonia per dare un overview della manifestazione e i saluti anche in qualità di presidente appunto prego buonasera a tutti per fortuna sono passati tutti i motociclisti in questo momento quindi la mia voce la potete ascoltare molto bene ringrazio a tutti i presenti per questa partecipazione e sono onorato di presentare questa trentunesima edizione che praticamente siamo quasi secondi in puglia dopo la regata brindisi corfu veniamo noi come storicità di questa manifestazione che si chiama anche trofeo adolfo frattarolo le questioni tecniche di questa regata poi le lascerò ai tecnici io sono solamente soddisfatto e contento di aver fatto anche dei gemellaggi con altre associazioni in special mondo anche con quelle di cav ma non solo di manfredonia anche quelli di foggia di barletta quindi significa che è bello stare tutti nella stessa direzione anche questa è democrazia e libertà oltre alle critiche adesso voglio ripassare la parola a due nostri ospiti all'assessore al consigliere welfare e poi alla all'assessore grazie buonasera a tutti grazie al presidente per averci invitato io vi porto i saluti dell'assessore pennella che purtroppo non può essere presente con noi per altri impegni istituzionali mi sono mi soffermo sul tema della violenza perché ho letto che questo evento aderisce aderisce alla campagna della prevenzione della violenza di genere quindi si chiama allenati contro la violenza che comunque fa capo alla regione Puglia e vede il settore welfare legato allo sport e con me sono andata una porta aperta su questo tema perché sono sempre più convinta che lo sport sia fondamentale soprattutto in ambito sociale ma per sconvincere un tema come la violenza che è un tema molto frequente sul nostro territorio ve lo dico da professionista perché sono una psicologa e psicoterapeuta e a malincuore vi dico che a Manfredonia è un fenomeno molto diffuso ehm io mh vorrei sottolineare anche l'importante azione del CAV di Manfredonia che eh che vede la collaborazione con l'avvocato Daniela Gentile che lavora molto bene sul tema ehm so che non è l'unico evento che vede la collaborazione col CAV ci saranno altri eventi sportivi e questo mi fa molto piacere io non mi dilungo eh vorrei cedere la parola all'assessore Laurula per gli altri saluti grazie Buonasera a tutti grazie per l'invito al presidente e a tutti voi eh porto i saluti del sindaco che è fuori per altri impegni e del resto dell'amministrazione che per motivi vari non è riuscita a partecipare ehm sono felice di essere qui a ehm a parlare proprio quindi della Pizzo Munno Cup perché diciamo mi ha vista anche in anni precedenti seppur indirettamente partecipe ehm alla stessa insomma allo stesso evento ehm prima di iniziare questa conferenza ho posto delle domande qui all'architetto e al presidente perché ho chiesto un attimino eh qual era l'andamento della partecipazione eh a questa gara e mi hanno detto che sono all'incirca una trentina di eh imbarcazioni fino ad oggi e quindi ci auguriamo che in quest'ultima settimana il numero aumenti ehm io come in questo momento in qualità di assessore e quindi come amministratrice eh però come anche persona che ama lo sport ehm queste manifestazioni sono manifestazioni che ehm mi piacciono tantissimo e vorrei che eh fossero eh più incentivate e ehm purtroppo devo dire che forse Manfredonia che ha il mare è poco amante del mare io devo e quindi vorrei anche con con l'aiuto quindi dell'amministrazione ehm e ehm creare quei presupposti pure eh coinvolgendo eh le stesse scuole e quindi coinvolgendo i ragazzi ehm e poi eh viene da sé che eh il coinvolgimento soprattutto dei ragazzi eh evita e aiuta eh diciamo la dispersione di alcuni ragazzi e quindi diciamo aiutiamo anche da un punto di vista sociale eh sociale eh quindi a migliorare il nostro paese perché il paese non si migliora solo curando l'aspetto esteriore bensì intervenendo nel cuore del dei cittadini quindi io vi faccio tanti auguri per questa per questa gara mi auguro che eh nel corso degli anni successivi quindi nelle prossime manifestazioni ehm siano sempre più numerosi e partecipi quindi che dire buon vento in poppa e buonasera a tutti come già mi ha presentato Simona sono Roberto Centonza consigliere allo sport di questa sezione della Liga Navale ehm dal punto di vista tecnico spetto un attimo perché volevo ricollegarmi a quello che diceva l'assessore Laureola. Facevamo questa riflessione tra il nostro porto commerciale e il porto turistico abbiamo se contiamo gli alberi delle imbarcazioni a vela abbiamo circa un centinaio di barche a vela quindi noi potremmo fare il primo evento della Puglia come numero di barche semplicemente eh coinvolgendo cercando la partecipazione di chi ha la barca a Manfredonia e purtroppo devo dare ragione all'assessore del fatto che dal punto di vista del diciamo degli abitanti locali e dei rintorni perché nel porto turistico non ci sono solamente barche di armatori manfredoniani c'è una poca partecipazione tant'è vero che due terzi degli iscritti dei nostri iscritti sono barche che vengono principalmente dal barese dove è lì che c'è il grosso della partecipazione probabilmente questo è dovuto al fatto che il taglio che noi abbiamo sempre dato a questa manifestazione è puramente agonistico siamo sempre molto accentrati sull'agonismo e questo è quello che principalmente ci richiede anche la federazione italiana vela che ci dà le regole per organizzare questo evento però è anche vero che il taglio del diportista cioè chi non viene per vincere non viene per fare gara ma viene per semplicemente per stare insieme per condividere una passione è un profilo che va ricercato e quindi contro quelle che sono quelle che sono le direttive della FIV io ritengo che la categoria libera e la categoria del diporto è una categoria che va ricercata lo spirito di andare per mare senza necessariamente cercare la classifica e questo diciamo che comporta anche un dispendio economico perché chi ha una barca preparata per l'agonismo ha delle spese nettamente superiori rispetto a chi ha la barca per fare il bagno la domenica e questo allontana tanta gente da questo tipo di eventi che sono prettamente tagliati sull'agonismo quindi io quello che dico a noi tutti ma è per primo che sono un agonista sfegatato è quello di cercare di allargare il cerchio più possibile cercando sì di dare un profilo tecnico e agonistico medio alto se non alto ma allo stesso tempo abbracciare tutte le altre imbarcazioni così come avviene la barcolana se voi vedete la barcolana ci sono 2000 iscritti la regata la fanno 50 barchi gli altri 1950 vanno a passeggio io la chiamo la regata della parmigiana cioè chi va per il piacere di stare per mare e condividere quindi lavoro che va fatto è quello di allargare di abbracciare il più possibile e aggiungo facciamo anche con l'assessore sempre questa riflessione di cercare tutti insieme di cancellare di eliminare qualche frattura che nel tempo nel tempo si è creata tra i vari gruppi che partecipano nel mondo della vela detto questo passando al punto di vista tecnico fortunatamente e spero di non sbagliarmi sabino mi guarda male le previsioni danno buon tempo quindi dovrà probabilmente sarà una regata piacevole non come quella dell'anno scorso è l'anno scorso l'anno scorso per il primo anno la pizzo munno cap non è arrivato a bieste non è potuta arrivare a bieste per motivi di sicurezza perché avevamo vento di libeccio a 40 nodi quindi io spero che non ricapiti quindi spero vivamente che le previsioni che ci sono oggi si confermino anche per una settimana e quindi che la regata sia aperta a tutti sia aperta anche a quel diportista che non ha una grande esperienza da marinaio e quindi anche grazie all'aiuto dei mezzi di assistenza che la rega navale insieme a tutti i nostri partner mette a disposizione possa arrivare a bieste in sicurezza in tranquillità le condizioni meteo ad oggi sembrano aiutarci in questo il percorso è dello stesso di tutti gli anni quindi si parte da manfredonia nello specchio acquo di manfredonia ci sarà una boa di bolina di disimpegno e dopo la boa di bolina di disimpegno si fa tutto il giro del gargano fino ad arrivare a biesto e questo succede venerdì 8 settembre la sera del venerdì 8 settembre ci sarà un evento presso il nostro partner hotel i melograni dove ci sarà una cena con tutti in conviviale con tutti i partecipanti alla regata e con tutti i nostri ospiti l'indomani mattina quindi sabato 9 settembre partenza nei prezzi del pizzo munno abbiamo cambiato la location negli ultimi anni della partenza uno per motivi di sicurezza perché lì sotto punta san francesco il mare è sempre meno mosso rispetto che al largo del faro di santa eufemia e l'altro è puramente dal punto di vista paesaggistico perché lo spettacolo che si vede sia da chi sta a bordo sulle barche sia per chi sta a terra sul belvedere di vieste è davvero emozionante e quindi sono se non sbaglio tre anni gigi correggimi se sbaglio che abbiamo deciso di fare la partenza nell'area di antistante il pizzo munno a quel punto la regata riparte da vieste e ci sarà il ritorno fino all'arrivo che sarà all'imboccatura nei pressi dell'imboccatura del porto pescherecci di manfredonia il 10 di settembre quindi la parte agonistica l'evento sportivo finisce sabato 9 settembre il 10 di settembre invece abbiamo ritenuto opportuno vista anche diciamo la partecipazione alla campagna allenati contro la violenza ci sarà una veleggiata e in questo chiedo a tutti voi di cercare ricollegandomi a quello che dicevo prima la partecipazione di tutti perché è una veleggiata quindi non prevede iscrizione non prevede documentazione alcuna prevede una libera partecipazione a una veleggiata che si farà nelle acque antistante manfredonia con l'obiettivo di essere il più numerosi possibile per portare questo messaggio di diciamo di come dire aiutatemi di inclusione e di contrasto alla violenza di genere ok in tutto questo io chiudo e vorrei ringraziare tutti i nostri partner che non sono solo quelli che vedete sulla locandina perché purtroppo negli ultimi giorni dopo le stampe dei manifesti e di tutto il materiale pubblicitario si trovano sempre altri partner che vogliono contribuire molto spesso anche non economicamente perché fondamentalmente a volte è sufficiente l'aiuto per far sì che un evento funzioni e riesca e li nomino il primo partner è diciamo che abbiamo è l'istituto alberghiero michele lecce dico bene che ci dà una grossa mano nell'organizzazione dell'evento del sabato sera qui a manfredonia mettendo a disposizione il loro staff di cuochi e di di personale di servizio alla manifestazione l'hotel i melograni che invece il nostro partner su bieste per tutto quello che sarà il conviviale su bieste sistema solare che è un partner tecnico marchetti che è un nostro partner storico che da diversi anni ci aiuta economicamente e non affinché possa funzionare tutto quanto obiettivo mare di bari orsini carta che ci aiuta nelle forniture di tutto quello che ci serve per organizzazione degli eventi abbiamo guglielmi il cui rappresentante qui di fronte a me che ci dà anche lui il suo contributo aiutatemi perché ce ne sono diversi gli abbiamo detti minami che ci sponsorizza probabilmente dimentico qualcuno e non me ne volete mi scuso fin da ora lascio la parola a gigi e anche lui dal punto di vista tecnico in quanto presidente della giuria può darci qualche altra informazione riguardo la regata sì grazie roberto allora per quanto riguarda le condizioni meteo marine incrociamo le dita perché ovviamente con la meteo dobbiamo sempre fare i conti e dicevi bene che la partenza da viste da qualche anno la facciamo a ridosso questo è stato recentemente gioco forza perché dovevamo mettere al sicuro le imbarcazioni e quindi siamo stati costretti relativamente come giuria a riposizionarci all'interno dello specchio acro antistante il il pizzo munno è importante ringraziare l'istituto alberghiero perché come l'anno scorso c'è una una collaborazione proficua e quindi tutte le attività di conviviali del sabato che si terranno qui per a seguito della premiazione saranno coordinate dall'istituto che a nome della lega navale di manfredonia desidero ringraziare nuovamente per quanto riguarda la domenica mattina è da tempo che siamo a lavoro con i cavi centro antiviolenza in particolare con il centro antiviolenza di manfredonia di foggia e di barletta qui abbiamo una rappresentanza a cui farebbe mi farebbe piacere poter dare la parola prima di dei saluti finali e tutti voi conoscete il la piazzetta la piazzetta del dell'info point bene siccome ha una è molto panoramica e suggestiva noi abbiamo pensato di fare il la domenica mattina un incontro una colazione alle ore 9 e 30 circa presso la piazzetta dell'info point il terrazzo dell'info point e dopo una serie di interventi da parte di testimonia di figure rappresentative di queste attività quindi volontari e proiezioni di alcuni cortometraggi che enfatizzano molto il tema portarci poi nel nel porto della lega navale o del marina del gargano per dare seguito a questo carosello nello specchio antistante il porto e le barche avranno ciascuna un nastro rosso che sarà un modo diciamo molto simbolico suggestivo per richiamare l'attenzione e questo è vero anche perché qualche anno fa abbiamo fatto 10.000 vele contro la violenza di genere e quindi molte delle imbarcazioni già hanno partecipato in quella circostanza e come ha detto roberto è davvero bello da parte di tutti poter partecipare e come armatori e come soci o semplicemente amanti della vela perché se le condizioni lo permettono possiamo dedicare gran parte della mattinata e stare tutti assieme prima di salutarci per la chiusura della manifestazione grazie domenica domenica 10 settembre voglio passarti un po così se devi fare qualche ritiamo allora sì a me tocca sempre la parte dei ringraziamenti anche istituzionali ricordo che l'apizzo munno cap è promossa e organizzata dalla lega navale italiana sezione di manfredonia in collaborazione con world sailing fiv zona 8 uvai lega navale italiana sezione di vieste e il marina di vieste la manifestazione gode del patrocinio di diversi enti istituzioni la regione puglia l'autorità ad sp mam l'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale città di manfredonia città di vieste comune di monte sant'angelo comune di mattinata e parco nazionale del gargano l'evento sirene e il nome che abbiamo dato all'evento della domenica mattina del 10 settembre è dedicato al tema della violenza di genere nell'ambito della campagna regionale allenati contro la violenza ed è appunto lo ricordiamo è organizzato in collaborazione con il centro antiviolenza dell'ambito di manfredonia rinascita donna eh dell'associazione impegno donna cav telefono donna di foggia l'osservatorio giure rossella eh centro antiviolenza onlus di barletta e anche con il comitato WISP foggia manfredonia e l'ITST l'istituto tecnico superiore per l'industria dell'ospitalità e del turismo allargato che eh è nei locali in questo momento dell'infopoint l'idea è un po' quella di trasformare l'infopoint turistico in un infopoint eh dove parlare della violenza di genere quindi ci saranno diverse situazioni che non voglio svelare eh fino in fondo perché insomma lo stiamo costruendo ci saranno diverse eh postazioni dove verranno trasmessi dei cortometraggi che parlano della violenza di genere ci saranno le scarpette rosse che sono un po' il simbolo della lotta contro la violenza di genere i palloncini rossi e poi il personale del CAV e invito anche Libera Lauriola insieme a Nancy Zorretti della WISP a raggiungermi eh potranno interfacciarsi direttamente con i cittadini perché è un evento aperto alla cittadinanza. Credo che abbiamo detto tutto e darei la parola proprio a Libera. Salve a tutti io sono Lauria Libera, sono un'assistente sociale e operatrice del CAV impegno donna. Noi innanzitutto siamo molto felici di essere qui, abbiamo già collaborato con la Lega Navale, è stata un'esperienza molto bella e importante, soprattutto perché nel nel mio settore la cosa fondamentale è che non si consideri la violenza di genere un problema esclusivamente delle donne e che non può essere comunque risolta dal singolo individuo ma dalla comunità e società nel suo complesso. Quindi questo potersi interfacciare con altre realtà che sono diverse da noi comunque fanno sì che sia un valore aggiunto. Quindi per noi questa partecipazione è importante e quindi speriamo che continui. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, sono Nancy Zorretti e parlo a nome del presidente Orazio Falcone dal quale vi mando i saluti ma anche da parte di Andonietta Danzeris, consigliera nazionale e vicepresidente del comitato territoriale Foggia Manfredonia. Siamo onorati di essere presenti il 10 e perché siamo onorati? Perché state dando quello che è il via alle manifestazioni che noi ogni anno portiamo avanti nel segno del rispetto della persona. Perché vi parlo del rispetto della persona? Perché gli eventi di sensibilizzazione che noi cerchiamo di portare avanti e Libera ne sa qualcosa, non sono mai indirizzati esclusivamente al 25 novembre. Noi parliamo del 25 novembre come una data simbolo della lotta contro la violenza, ma il processo di sensibilizzazione del rispetto della persona non è indicativo del 25 novembre. Cerchiamo nelle scuole, nelle strutture sociali di produrre questa sensibilizzazione al rispetto della donna senza nessuna differenza di genere abbattendo quelli che sono gli stereotipi. Nel progetto della Capitanata in Rosa ci sono altre manifestazioni che appunto vedranno protagoniste le donne. La Camminata in Rosa che si terrà a Manfredonia e quella che si terrà a Cerignola nel mese di ottobre. Per poi finire nella manifestazione che quest'anno si caratterizzerà per ben sette giorni, dove le donne saranno protagoniste di diversi sport, quindi impegnate in diverse discipline e poi ci sarà una tavola rotonda il 25 novembre dove si metterà in auge quello che le donne sono riuscite a realizzare nella loro professione. Vi ringrazio molto per averci ascoltato e soprattutto per averci invitato. Insomma Luigi, quindi lo sport anche come strumento educativo e come veicolo per i temi dell'inclusione ricordiamo che anche gli atleti che parteciperanno alla regata avranno sulla maglietta anche il logo allenati contro la violenza. Per questo passerei la parola a Roberto che in queste ore si sta attivando insieme a tutti i partner per la realizzazione di una t-shirt che è senza precedenti mi sembra di immaginare. Senz'altro ci sarà anche il logo della campagna di sensibilizzazione che, voglio sottolinearlo, è una cosa fondamentale, cioè abbinare una manifestazione sportiva a delle tematiche sociali, culturali e di promozione del territorio perché se la Regione Puglia per il secondo anno consecutivo ha creduto in noi nella Lega Navale è perché siamo artefici di questa campagna di sensibilizzazione, di avvicinamento e di inclusione da parte dei giovani. Voglio approfittare, passando la parola a Roberto, per dare un'anticipazione di una delle tante sorprese. L'imbarcazione che sarà timonata, presumo, da Roberto avrà a bordo tutti i ragazzi della scuola Vela di quest'estate. Giusto? Prego. Innanzitutto, ecco, mi avete ricordato di ringraziare un ulteriore partner fondamentale che è la Good Staff, che è l'agenzia di comunicazione e stampa che ci supporta nel creare tutte le grafiche della nostra comunicazione grafica. E quindi non è un lavoro semplice che purtroppo va fatto, non bastano due mani e un cervello, ma ci vuole, diciamo, tanto lavoro. La Good Staff si è rivelata un importante partner. Stiamo sviluppando anche la grafica delle magliette, non vi voglio svelare più di tanto, hanno dato qualche anteprima Gigi e Simona, quindi sarà presente il luogo Allenati contro la violenza. La barca, abbiamo avuto la fortuna di trovare un armatore, lo nomino, Michele Cavallone, che qualcuno di voi conosce, che dalla sua giovane età di 86 anni ci ha messo a disposizione la sua barca di 50 piedi per portare a bordo tutto il mio staff. Diciamo che io, oltre a essere consigliere allo sport, l'attività principale che faccio è l'istruttore di vela. Per fare l'istruttore di vela con i ragazzini, lavoriamo principalmente con bimbi che vanno dai 6 ai 15 anni. C'è tutto uno staff di ragazzi, adolescenti o poco più, che ci danno un grosso contributo e senza i quali l'attività dei corsi di vela non si può portare avanti. Abbiamo voluto premiare questi ragazzi, tenendoli tutti insieme, saranno in equipaggio con me Michele Cavallone, su questa barca, quindi faranno parte dell'equipaggio. Oltre a essere un'esperienza bella, un premio che noi vogliamo dare a questi ragazzi, è un'esperienza formativa perché loro sono abituati principalmente a navigare con le barchette che avete alle spalle e invece sulle barche grandi d'altura lì sono dei neofiti. Quindi approfitterò in questa occasione per dare loro qualche nozione e far sì che diventino dei marinai sempre più formati. Approfitto, e mi ricordo da quello che dicevate, il vivaio, si è parlato dei bambini, dei ragazzini, il vivaio è fondamentale. Se non c'è un ciclo continuo, una formazione da quando sono bimbi a abituarli a questo mondo della nautica e a fargli capire il messaggio che c'è dietro la nautica. Non è solo agonismo, non è solo sport, non è solo immagine, non è solo la barca bella per dimostrare in quale posto sociale qualcuno può collocarsi, ma il mare è vita, il mare è formazione. Io dico che la scuola vela è una scuola di vita prima di essere una scuola tecnica. E quindi io dico che il vivaio è fondamentale, bisogna lavorare da quando sono più piccoli e portarli piano piano, coltivare questo tipo di attività affinché loro siano i soci della Lega Navale, nonché i marinai, nonché i regatanti di domani, quando noi saremo fuori uso e dobbiamo lasciare spazio. Se abbiamo lavorato bene... Ho detto che sono 16 anni, l'armatore significa che porta lunga vita la vela. La vela porta lunga vita, me lo auguro. E quindi chiudo dicendo che vorrei che l'inclusione dei giovani in tutti i contesti legati alla Lega Navale, allo sport della vela, sia uno degli obiettivi primari. Quindi me lo pongo prima io come obiettivo e cerco aiuto in voi e in tutti voi nel far sì che questo sia sempre più... L'assessore mi chiede la parola, lascia un'altra. Giusto un appunto, dato che noi come amministrazione, almeno parlo di noi perché la stiamo vivendo direttamente in questo momento, stiamo cercando il più possibile di fare inclusione sia per quanto riguarda la disabilità e sia per quanto riguarda proprio l'aiuto a quelle famiglie meno abbienti. Tant'è che quest'anno verranno distribuiti dei voucher per le palestre. Perché? Quello che dicevo nel mio primo intervento. Cioè il nostro obiettivo è quello proprio di recuperare i ragazzi nelle scuole. Purtroppo ci sono ragazzi e famiglie che non hanno la possibilità, quindi noi che cosa vogliamo fare? Aiutare attraverso gli aiuti, quindi dei servizi sociali e mettere a disposizione questi fondi con l'aiuto delle scuole che individuano quelle che sono le famiglie più bisognose, anche quelle che già sono elencate presso i servizi sociali e quindi farli partecipare alle attività sportive. Perché sappiamo che lo sport fa bene sia al fisico che all'anima e che alla mente. Quindi io a questo punto, mentre parlava qui l'architetto, mi consultavo con la consigliera Antonia dicendo di allargare questo aiuto anche per il periodo estivo e quindi perché no far partecipare i ragazzi pure al famoso corsi di vela. Perché per me è fondamentale. Io ho conosciuto la vela grazie a mio figlio, perché mio figlio il periodo estivo, essendo una mamma che lavorava, aveva necessità di collocarlo da qualche parte, piuttosto che lasciarlo dai nonni, ho preferito, visto che lui poi oltretutto amava il mare, ho preferito fargliela amare ancora di più. E tant'è che poi ha partecipato successivamente alle regate, ecco perché ho detto lo conosco il mondo, diciamo anche se in modo defilato, perché avevo mio figlio e avevo poi anche il mio ex datore di lavoro Antonio Rinaldi, che ormai non c'è più, armatore, che partecipava alle gare. Quindi ci prendiamo questo impegno. Grazie mille. No, non sono timida, ma non voglio fare la tecnica, perché sono in veste di consigliere, l'ho detto prima che sono una psicologa e psicoterapeuta, che mi occupo fondamentalmente di bambini e di adolescenti, lavoro anche nelle scuole, e quindi così come dicevo prima che il tema della violenza è un tema, purtroppo devo dire in me, nell'ultimo periodo molto sviluppato, perché mi capita anche in studio di trattare molte donne con violenza, anche ragazzi giovani. come diceva l'assessore Laureola, ci stavamo confrontando prima, per noi il tema dell'inclusione è fondamentale ed è stato ovviamente anche il nostro sindaco, come tutti sapete, ha deciso anche di devolvere la sua indennità per le categorie fragili, quindi per noi è fondamentale appunto concedere soprattutto alle famiglie meno abbianti la possibilità, come diceva l'assessore adesso, di fare sport. Io che sono figlia anche oltretutto di uno sportivo e so quanto lo sport è fondamentale. Io dico sempre ai miei pazienti che i due antidepressivi naturali sono lo sport e la musica, quindi se riuscissimo ad avvicinare di più i nostri ragazzi allo sport sarebbe veramente un grosso vantaggio, perché riusciremo anche a superare tante difficoltà che loro hanno, riusciremo a dedicare degli spazi per loro diversi rispetto a quelli che si ritagliano ultimamente. Quindi io sono contenta di essere qui oggi perché devo dire che non sono un'appassionata di vela, di barche, ieri ho fatto la processione a mare per la prima volta e ho chiesto al Presidente di invitarmi domenica perché ci tengo particolarmente visto che ci sarà questa regata contro la venenza di genere e quindi mi sono autoinvitata nella sua barca perché mi piacerebbe tanto. A me è un motore purtroppo. Ah allora qualcuno mi sono autoinvitata, mi avete invitato però mi piacerebbe perché il progetto è molto bello e porteremo anche l'assessore Pennella perché così parteciperemo anche all'evento che voi avete. Quello del 10 è bellissimo e quindi ci piacerebbe tanto partecipare sia come Consiglio Comunale ma anche come professionista, perché no? Volevo chiamare anche per un saluto il Professor Antonio Marinaro come docente dell'IPO a Michele Lecce che è uno dei partner della Pizzo Munno Cup e nel frattempo saluto anche perché ci ha raggiunto il Tenente Francesco Schiuma della Guardia di Finanza, comandante della sezione operativa navale di Manfredonia della Guardia di Finanza che vedo. Saluto e ringrazio per la presenza e la vicinanza. Allora Antonio. Si è parlato di sport, si è parlato di tutto il tessuto. Poco, poco, poco. Naturalmente porto i saluti del mio dirigente che come già qualche consigliere e il presidente stesso sa, la grande voglia di sport del nostro dirigente e della collaborazione che deve avvenire per i soggetti attivi del territorio. Noi ci crediamo molto sulla sua scia e il dirizzo che ha dato al nostro istituto. Qui è presente praticamente tutto il tessuto sociale, l'istituzionale, le forze economiche che hanno aiutato chi organizza questa bellissima gara. Devo dire una cosa, raccogliendo l'invito fatto dai consiglieri, assessori e presidenti, noi se riusciamo a fare rete scuola, servizi sociali, sport e quindi società sportive e anche associazioni come Lega Navale, e ce ne sono tante nel territorio cittadino, sicuramente riusciremo ad arginare questa purtroppo dilagante attività che i ragazzi di oggi si lasciano andare attirati da, potrei utilizzare il termine, dal lato oscuro purtroppo della vita. Se facciamo sinergia sicuramente riusciremo a recuperare quanto più ragazzi possibili, anche perché la crisi economica, anche dei valori stessi della famiglia, religiose, politica, ci metto tutto dentro. La crisi che sta vivendo questo periodo particolare li lascia lo sbando. Approfitto per segnalare questa cosa qui, perché c'è tanta positività nei giovani. abbiamo iniziato a parlare di questa gara, di questo connubio tra l'Ipeoa, Michele Lecce e la Lega Navale il 9 giugno. Abbiamo iniziato a lavorare a questa cosa qui perché ci crediamo, il dirigente crede fermamente nei rapporti degli enti e delle associazioni del territorio. E voglio sottolineare che i nostri ragazzi, l'istituto e quindi l'attività didattica deve ancora iniziare, hanno subito aderito all'invito di partecipare il 9, ad essere qui a condividere la bellissima esperienza fatta lo scorso anno che ha visto un qualcosa di spettacolare per chi l'ha vissuto in primis, perché abbiamo cambiato 3-4 location in 2-3 ore, credo. E' stato una forza maggiore perché la scuola ancora non è aperta. Era quello che volevo sottolineare, visto che l'attività didattica, la scuola deve ancora iniziare. I nostri alunni, in memory proprio dell'esperienza spettacolare dello scorso anno, subito hanno detto sì quando sono stati invitati. Ha detto noi ci siamo, prof, sia in cucina, sia in sala, sia in accoglienza. E con questo, ecco, ribadisco il discorso della sinergia che tutte le forze del territorio devono trovare per cercare di recuperare quanto più i ragazzi purtroppo ci lasciano, lasciano l'abbandono scolastico molto alto in questo periodo. Grazie a tutti. Allora, prima dei saluti finali, io volevo dare appuntamento a giovedì prossimo, giovedì 7 settembre, data in cui ci sarà il briefing, il famoso briefing che anticipa la partenza del venerdì mattina. E quindi sempre qui alle ore 20 i regatanti, gli skipper, gli armatori, sono caldamente invitati a presenziare perché oltre a dare il pacco gara daremo istruzioni riguardanti proprio i dettagli tecnici. E quindi a tal proposito volevo dare, diciamo, il mio saluto a nome della FIV Ottava Zona, a nome della Puglia Nord, a tutti i circoli FIV che sono rappresentativi del territorio. Quindi anche al Centro Velico, allo Yachting Club, a Lina del Gargano e alla Gargano Sailing che sono davvero attivi come noi in queste manifestazioni di promozione dell'attività giovanile. Ripasso la parola a Simona per i saluti finali e poi al Presidente. Sì, io volevo ricordare, confermami e correggimi se sbaglio, che è possibile iscriversi alla regata entro martedì 5 settembre alle ore 20, quindi se c'è qualche altro equipaggio, qualche altra barca che si vuole iscrivere c'è tempo fino a martedì. E quindi, gli abbiamo ricordati un po' tutti gli appuntamenti, 8 e 9 si va per mare, il 10 prima facciamo colazione insieme con sirene e poi torniamo in mare. Quindi tre giorni dedicati al nostro bel mare. Riprendo le parole di chi ha detto, Manfredonia dovrebbe tornare ad avere un rapporto più stretto con il suo mare. Presidente. A questo punto non posso che ringraziare nuovamente che avete sopportato fino adesso tutto quello che abbiamo detto. Penso che siamo stati esostivi nel spiegare quelle che sono le nostre intenzioni e quello che il nostro cuore ci fa dire. Quindi lo facciamo sempre per gli altri e mai per noi stessi. Quindi grazie e adesso siete tutti invitati a un piccolo rinfresco. Grazie di nuovo.